ho detto che mi piaceva anche se era troppo bello per essere un uomo e un po era uguale prima che ci siamo fidanzati poi invece non le andava giù il giorno che sono scoppiata a ridere e a ridacchiare non riuscivo a smettere con tutte le forcine che mi cascavano una ad una dalla massa di capelli che avevo sei sempre di buon umore ha detto lei si era seccata perché lo sapeva che intendevo perché le ho raccontato qualche cosa di quel che c'era tra noi non tutto ma giusto il tanto per farle venire voglia ma non è stata colpa mia se non si è fatta viva troppo dopo che ci siamo sposati chissà com'è ora dopo aver vissuto un bel pezzo con quel suonato di suo marito aveva un aspetto teso e trasandato l'ultima volta che l'ho vista probabile che avevano appena litigato perché ho capito al volo che faceva di tutto per far cadere il discorso sui mariti e parlare di lui per farlo nero cos'era che mi ha detto oh sì a volte andava a letto ancora col fango sulle scarpe quando gli prende il capriccio pensa cosa deve essere andare a letto con un coso del genere che ti può ammazzare quando gli pare che un uomo però non è sempre così tutti si arrabbiano almeno poldi qualunque cosa fa si pulisce sempre i piedi sul tappettino quando rientra asciutto o fradicio e lui lucida sempre le scarpe e si toglie sempre il cappello quando ti vede per strada o se ne sta in ciabatte a cercare una cartolina oh mary amore mio oh mary amore mio una cosa del genere ti darebbe il colpo di grazia davvero troppo stupido persino per togliersi le scarpe ora che te ne fai di un uomo così preferirai morire venti volte piuttosto che sposarne un altro del loro sesso ovviamente lui non la troverebbe mai una donna come me che lo sopporta come faccio io mi conosci e mi ti porti a letto sì eppure lui lo sa in fondo al cuore prendi quella mrs maybrick quella che ha avvelenato il marito per chissà che cosa innamorata di un altro eppure è stata scoperta che farabutto bello e buono per finire a fare una cosa del genere sicuro certi uomini sanno essere terribilmente esasperanti ti fanno impazzire è sempre nel peggiore dei modi al mondo ma perché ci chiedono di sposarli se siamo così male che più non si può sì perché senza di noi non sanno che fare arsenico bianco gli ha messo nel tè l'ha preso dalla carta moschicida o sbaglio chissà perché lo chiamano così se glielo chiedo dice che viene dal greco e ne sappiamo tanto quanto prima deve averlo amato alla follia quel tipo per rischiare di farsi impiccare o non gliene fregava se questa era la sua natura che poteva farci e poi non sono così selvaggi da metterci a impiccare una donna sicuramente no oppure forse sono tutti così diversi prendi Boylan che parla della forma del mio piede che ha notato subito anche prima di presentarsi alla dbc quando ero con Poldi a ridere e cercare di ascoltare io che dondolavo il piede abbiamo ordinato tutti e due tè e pane e burro l'ho visto che guardava con quelle vecchie zitelle delle sue due sorelle quando mi sono alzata e ho chiesto alla ragazza dov'era che importa mentre ero lì che per poco non mi scappava e quelle mutande lunghe chiuse nere che mi ha fatto comprare lui si vuole mezz'ora per calartele e mi bagno sempre tutta una nuova moda passeggera a settimana così tanta ne ho fatta mi sono spordata i guanti di camocio sul sedile dietro e non li ho più ritrovati dopo che qualche ladra e voleva farmelo mettere sull'Irish Times perduti nel bagno delle donne dbc dime street riportare a mrs marion bloom e ho visto che mi puntava i piedi con gli occhi mentre uscivo dalla porta agirevole quando ho ricambiato lo sguardo e ci sono andata per un tè due giorni dopo nella speranza ma non c'era ora come ha fatto a eccitarlo solo perché li incrociavo quando eravamo in un'altra stanza prima intendeva le scarpe che erano troppo strette per andare a passeggio che mano graziosa se solo avesse un anello con una pietra del mio mese una bella acqua marina una gliela scuccio ora intanto e un brazzaletto d'oro non mi piacciono tanto i miei piedi comunque una volta l'ho fatto venire col piede la notte dopo quel concertaccio di Goodwin che freddo e quanto vento insomma in casa avevamo quel room a scaldare e il fuoco non si era spento quando mi ha chiesto di togliermi le calze stesa sul tappettino del caminetto a Lombard Street insomma e un'altra volta erano le mie di scarpe infangate voleva farmi portare in casa tutta la merda di cavallo che c'era in giro ma ovviamente lui non è naturale come il resto del mondo e il fatto che io cos'è che ha detto che darei nove punti su dieci a Katie Lennar e la batterai che significa gliel'ho chiesto non mi ricordo che ha detto lui perché era appena passata un'edizione della sera e il tipo che i capelli ricci della Luca and Airi che carino mi sa che l'ho già vista la sua faccia da qualche parte però l'ho notato quando assaggiavo il burro e me la sono presa comoda pure Bartel Darcy si prendeva gioco di me quando ha cominciato a baciarmi sulle scale del coro dopo che ho cantato Ave Maria di Gounod che stiamo aspettando oh amor mio dammi un bacio sulle ciglia scure e parti qual è la mia parte scura era proprio arrapante malgrado la voce gracchiante e poi le mie notte basse ci andava pazzo c'è da credergli mi piaceva come muoveva la bocca mentre cantava poi ho detto che cosa terribile da fare lì in un posto così non mi sembra così terribile glielo dico qualche giorno non ora e lo stupisco e già ce lo porto e gli faccio vedere pure il posto esatto dove abbiamo fatto tutto così ecco qua o ti va o ti attacchi pensa che non può succedere niente senza che non lo venga a sapere lui non sapeva nulla di mia madre finché non ci siamo fidanzati altrimenti non mi aveva così a buon mercato e lui era dieci volte peggio comunque stava lì a supplicarmi di dargli un pezzettino delle mie mutande quella sera venendo da Kenny Wall Square mi ha baciato l'occhiello del guanto e me lo sono dovuto togliere mi faceva domande è recito conoscere la forma della mia stanza da letto così glielo ho lasciato tenere come se mi fossi dimenticata per pensare a me quando l'ho visto infilarselo in tasca certo impazzisce e quando si parla di mutande si vede lontano un miglio sempre a guardare con la baba alla bocca quelle svergognate in bici con le gonne al vento che si vede l'ombelico anche quando io e Millie stavamo fuori con lui alla festa di beneficenza fuori quella con la mussolina color crema che stava contro il sole così gli faceva vedere ogni più piccola cosa che aveva addosso quando mi ha notata che lo seguivo sotto la pioggia l'ho visto prima che mi vede lui comunque lì all'angolo di Harald's Crossroad con un impermeabile nuovo e uno sciarpone colorato alla zingara per mettere in mostra la carnagione e il cappello scuro da tipo che la salunga come sempre che ci faceva visto che non aveva niente da farsi ci vanno e si prendono quello che vogliono da una qualunque con una gonna addosso e niente domande ma poi vogliono sapere dove stavi andando tu me lo sentivo che mi pedinava con gli occhi incollati al collo si teneva lontano da casa ha capito che la situazione si faceva troppo calda per lui così mi giro e mi fermo e lui che mi assilla per farmi dire finché non mi tolgo il quanto lentamente fissandolo e dice che era troppo freddo per le maniche traforate una scusa qualunque per mettere le zampe sulle mie mutande mutande tutto il tempo santo cielo finché non ho promesso di dargli quella mia bambola da portare nella tasca del panciotto oh Maria Santissima sembrava proprio uno scemo tutto fradicio sotto la pioggia che denti splendidi aveva ti faceva venire fame a guardarli e mi implorava di alzarmi la sottana prissettata arancione non c'era nessuno diceva che si sarebbe inginocchiato sotto la pioggia se non lo facevo così testardo che lo stava per fare ed era pronto a rovinarsi il suo impermeabile nuovo non sai mai che pazzia farebbero da soli con te ci impazzescono se passa qualcuno allora me la sono alzata un po' e gli ho toccato i pantaloni da fuori come facevo a Gardner dopo con la mano dove ho l'anello per frenarlo altrimenti faceva peggio dov'è che era troppo in pubblico morivo dalla voglia di sapere se era circonciso tremava come gelatina vogliono fare tutto troppo velocemente togli ogni piacere e papà che aspettava la cena mi ha detto di dire che avevo lasciato la borsetta dal macellaio ed ero dovuta tornare indietro che imbroglione allora mi ha scritto una lettera con tutte quelle parole con che faccia mandarla una donna e quel suo modo di stare in compagnia mette così a disagio quando ci siamo incontrati mi chiedeva se mi aveva offesa e io con gli occhi bassi ovviamente se ne è accorto che non ero di cervello ne aveva non come quel Harry Doyle sempre a rompere a strappare qualcosa durante le cerade odio i perdenti e a sapere che significava certo ho dovuto dire di no per pura forma non ti capisco ho detto non era naturale o no certo che sì ovvio tutto era scritto con quella della donna disegnata sul muro a Gibilterra con quella parola che non riuscivo a trovare da nessuna parte solo perché la vedevano i bambini troppo piccoli poi scriveva una lettera ogni mattina a volte due al giorno mi piaceva come faceva l'amore sapeva come prendere una donna quando mi ha mandato otto papaveri grossi perché il mio era il giorno otto poi la notte gli ho scritto con i suoi baci mi ha toccato il cuore a Dolphinsburn non saprei descriverlo semplicemente ti fa sentire come niente al mondo ma non ha mai saputo abbrazzare bene come Gardner spero davvero che torni lunedì come diceva alla stessa ora le quattro odio la gente che viene a ogni ora rispondi alla porta e pensi che è il verduraio e invece è qualcuno e sei tutta svestita o si apre la porta della cucina tutta sporca e sudica un giorno che quel vecchio con gli occhi di ghiaccia di Godwin è venuto per sapere del concerto a Lombard Street e io giusto dopo cena tutta rossa e scapigliata a far bollire lo stufato non mi guardi professore ho dovuto dire faccio paura sì ma era un vero gentiluomo come non se ne sono più a modo suo impossibile essere più rispettoso di lui nessuno a dirti che sei fuori dovevi sbirciare dalla tendina come quel fattorino oggi prima pensavo che aveva rimandato visto che mi spediva il porto e le pesche prima e poi stavo cominciando a sbadigliare per il nervoso convinta che si prendeva gioco di me quando ho sentito il suo taratatatà alla porta doveva essere un po' in ritardo perché erano le tre e un quarto quando ho visto le ragazze d'Edalus uscire da scuola non so mai che ore sono persino l'orologio che mi ha regalato sembra che non vada mai bene piacerebbe farlo controllare quando ho tirato il penne a quel marinaio storchio inghilterra patria bellezza quando fischiettavo il mio bell'amore di ragazza e non m'ero nemmeno messa la sottoveste pulita o la cipria niente poi lo stesso giorno la settimana prossima dovevamo andare a Belfast eppure lui a Ennis anniversario del padre del 27 non sarebbe bello se lui magari le nostre stanze in hotel stanno vicine e succede qualcosa tra di noi nel letto nuovo non potrei dirgli smettila e non darmi fastidio con lui nella stanza accanto o forse un reverendo protestante con la tosse che bussa sul muro poi il giorno dopo non ci crederebbe che non abbiamo fatto qualcosa normalissimo con un marito ma un amante non lo freghi quando gli ho detto che non abbiamo fatto niente naturale che non mi ha creduto no è meglio che se ne va dove deve andare e poi succede sempre qualcosa quando c'è lui come quella volta al Mall of Concert a Mayerburg quando ha ordinato una zuppa bollente per tutti e due poi suona la campanella e lui che cammina lungo il binario con la zuppa sgocciolante a destra e a manca e si fa pure un bel po' di cucchiaiate che coraggio che figura ci fa fare che casino con la locomotiva in partenza ma lui non paga finché non ha finito i due signori in terza classe dicono che gli sembra giusto eppure lui quant'è cocciuto a volte quando si mette in testa qualcosa bravo però ad aprire la porta della carrozza col coltello altrimenti saremmo finiti a corche secondo me era per vendicarsi di lui oh adoro viaggiare in treno su una vettura con quei bei cuscini soffici chissà mi prenderà la prima classe magari vuole farlo in treno ed ha una mancia alla guardia beh o secondo me si saranno i soliti idioti che sbirciano coi loro occhi più stupidi che mai che un uomo eccezionale quel semplice lavoratore che ci ha lasciati da soli nella carrozza il giorno che andavamo out mi piacerebbe sapere qualcosa di lui una o due gallerie magari poi devi guardare fuori dalla finestra tutto più bello al ritorno pensa se non torno che direbbero che sono scappata con quello che ti ha fatto calcare un palcoscenico l'ultimo concerto in cui ho cantato dove è stato è passato più di un anno dov'è che era Santa Teresa Hall Clarendon Street ora ci sono certe facciatelle a cantare Kathleen Kearney e simili grazie al padre che era militare e io a cantare il mendicante distratto con indosso la spiglia di Lord Robles quando ce l'avevo scritto in faccia che ero irlandese e Poldi non abbastanza era lui che organizzava quella volta non mi stupirai come la volta che mi ha fatto cantare lo Stubb at Matter andando a dire in giro che stava musicando Lady Kindry Light gliel'ho detto io poi i gesuiti hanno scoperto che era massone e picchiava sul piano Led to Own copiato da qualche vecchia opera sì se ne andava in giro con qualche Sinderfine di recente o come si chiamano a parlare delle solite cavolate dice che quel piccoletto che mi ha presentato senza collo è molto intelligente l'uomo del futuro Griffith si chiama beh non sembra proprio ecco comunque deve essere stato lui sapeva che c'era un boicottaggio odio parlare di politica dopo la guerra quella pretoria Lady Smith a Blayfontime dove il luogotenente Gardner Stanley ottavo battaglione reggimento East Lanx di dissenteria era adorabile in uniforme cachi e proprio alto giusto un po' più di me sono sicura che è stato coraggioso ha detto che ero bella la sera che ci siamo dati un ultimo bacio alla chiusa del canale la mia bellezza irlandese era pallido perché era tutto eccitato di andarsene o ci avrebbero visto dalla strada non riusciva quasi a stare in piedi ma io con una voglia matta potevano fare pace subito oppure il vecchio D. Paul e gli altri vecchi Kruger perché non si mettono a combattere tra di loro invece di stare lì per anni ad ammazzare tutti quei bei ragazzi con la loro dissenteria se almeno gli sparavano bene non sarebbe stato così male mi piace vedere quando un reggimento passa in rivista la prima volta che ho visto la cavalleria spagnola alla rock è stato bello dopo aver guardato oltre la baglia di Altesiras tutte le luci della rock come luciole o quelle esercitazioni sui quindici o quelle esercitazioni sui quindici acri la black watch con i loro kilt a tempo sfilare in marcia oltre il decimo ussari del principe di Galles o i lancieri oh i lancieri che belli e i Dublin che hanno conquistato Tugela tuo padre ci ha fatto una fortuna vendendo i cavalli alla cavalleria beh poteva pure comprarmi un bel regalino lassù a Belfast dopo quello che gli ho dato hanno della biancheria bellissima quelli o uno di quei chimono devo comprarmi una pallina di naftalina ne avevo una da tenere nel cassetto insieme sarebbe fantastico andarmi in giro con lui a fare spese comprando cose così in una città nuova meglio lasciarlo qua questo anello ci vuole un sacco a togliermelo e farlo scivolare sulla nocchia o magari lo riportano ai giornali in città o lo dicono alla polizia ma penserebbero che siamo sposati oh ma che vadano pure a farsi friggere tutti quanti per quel che mi importa c'ha un sacco di soldi e non è uno che si sposa quindi meglio se qualcuno ci guadagna un po solo capissi se gli piaccio o no ero un po scialba sicuro quando mi sono vista da vicino nello specchio per incipriarmi uno specchio che non ti rende mai come sei e poi mi è stato soprattutto il tempo con quelle ossa grandi dai fianchi eppure pesante e il petto peloso che callo ti devi sempre mettere stesa per loro meglio se me lo infilava da dietro come dice Mrs. Maschiansky che glielo fa suo marito come i cani ma lei tira fuori la lingua il più possibile e quello calmo e tranquillo col suo battacchio ma è mai possibile riuscire a fare come vogliono con tutto quello che gli va bella roba quel vestito blu che aveva e la cravatta alla moda e i calzini di seta blu cielo con sopra quelle cose di sicuro se la passa alla grande lo capisci dal taglio dei vestiti e che orologio pesante mi ha fatto il diavolo a quattro per un po' dopo che era tornato con il giornale della sera strappava biglietti e bestemmiava blasfemo perché ha perso venti sterline ha detto colpa di un outsider che ha vinto e ne aveva scommesse la metà per me per via della dritta di Lennon al diavolo quello là brucia all'inferno sgroccone ci provava con me dopo la cena di Glen Cree mentre tornavamo che viaggio lunghissimo superata la Fatherbed Montaigne dopo che il sindaco mi aveva dato quelle occhiate da maiale Valdailon un incivile dalla testa ai piedi ho notato prima del dessert che schiacciava le noci coi denti volevo mangiarmelo con le dita fino all'ultimo osso quel pollo così saporito e croccante e tenero come non mai però mi andava di divorarmi tutto il piatto eppure quelle forchette e coltelli da pesce argento garantito mi piacerebbe averne qualcuna me ne sarai potute facilmente infilare un paio nel manicotto quando ci giochere il lavo sempre alla mercè per i soldi al ristorante per quel poco che ti ficchi in gola dobbiamo essere riconoscenti per una misera tazza di tè che gran bel regalo bisogna notarlo il modo in cui è diviso il mondo comunque se deve andare avanti voglio almeno altre due belle camice tanto per cominciare e però non so che tipo di butande gli piacciono secondo me proprio niente non ha detto forse sì e una ragazza su due a gibilterra non le portava per niente nude come dio la fatte la ragazza andalusa che cantava la sua manola non teneva nascosto ciò che non aveva sì e il secondo paio di calze fin to seta sono smagliate dopo un giorno che le ho indossate avrei dovuto riportargli indietro la levers stamattina e fare una scenata così me le cambiavano però per non agitarmi e rischiare di incontrarlo e rovinare tutto è uno di quei corsetti attillati che vorrei costano poco per la pubblicità su gentlewoman con rinforzi elastici ai fianchi uno ne avevo e l'ha riparato ma non serve come diceva donano una silhouette deliziosa per evitare un'orribile impressione di gonfiore sul di dietro ridurre la pancia è un po' troppa devo tagliare sulla birra scura a cena altrimenti comincio a prendere il vizio l'ultima che hanno mandato da O'Rourke era un po' andata e sembrava acqua gli fa facili i soldi Larry lo chiamano così quel pacchettino misero che manda a Natale un tortino caserezzo e una bottiglia di brodaglia che prova a spacciare per chiaretto non riesce a farla bere a nessuno prega Dio che non sfuta altrimenti muore di sete oppure devo fare un po' di esercizi di respirazione chissà se quel dimagrante funziona magari pure troppo le magre non vanno molto di moda ora di giarrettiere o quel paio viola che portavo oggi è tutto quello che mi ha comprato coi soldi del primo ma no c'era la lozione per il viso che ho finito ieri ma reso la pelle come nuova glielo ho detto mille volte fatela fare dallo stesso negozio e non dimenticarti Dio solo sa se se la sarà scordata glielo ho pure detto guarda che la riconosco dalla bottiglia se no non mi resta che lavarmi con la mia stessa orina tipo brodo di carne o zuppa di pollo e un po' di opoponaco e violetta mi sembrava che cominciava a farsi ruvida e un po' vecchia la pelle sotto è molto più delicata dove mi sono sbucciata lì sul dito sotto la scottatura peccato che non è tutta così e quattro miseri fazzoletti sei cellini in tutto certo dello stile non puoi farne a meno a questo mondo con tutti i soldi per la roba da mangiare e la casa in affitto quando ce l'ho li sperpero in giro sul serio alla grande ho sempre voglia di buttare una manciata di tè nel bollitore invece di misurare e contare se mi compro un paio di scarpe vecchie ti piacciono queste nuove? sì quanto costavano? non ho un vestito che è uno un abito marrone e la gonna e il giacchetto quello in lavanderia sono tre che vuoi che ci fa una donna? lì a ritagliare quel vecchio cappello e a rattopparne un altro i uomini non ti guardano e le donne ti passano sopra perché pensano che non ce l'hai un uomo poi tutto diventa sempre più caro ogni giorno per i quattro anni o più che mi restano prima dei 35 no quanti ne ho? non ricordo 33 a settembre oppure no oh beh guarda Mrs. Galbright è molto più vecchia di me l'ho vista quando sono uscita una settimana fa la sua bellezza è sfiorita era una bella donna capelli splendidi fino ai fianchi se li scrollava indietro come Kitty Rocher a Granton Street la prima cosa che facevo la mattina guardare oltre la strada per vederla pettinarsi come se gli piacesse farlo ed era la sua vita peccato che l'ho conosciuta solo il giorno prima di partire